scuola la leggera l'alberato su the island e c'è sto combattendo e dice qualcosa devo trovare dei feri di oleandro ma fa un culo ma non è un sereno per lui per quei cinque feri di oleandro non credo che non è venuto il mio comune oleandro oleandro rose per favore continua a cercare ma basta che possiamo andare se non erro c'è il viaggio rapido qua sotto giusto d se c'è il viaggio rapido possiamo andare prima laboratorio attacca mission abbiamo in canna dove dobbiamo portare sangue al laboratorio quindi l'ora dei sogni quindi lì città l'uomo di fata porta il campione al dottor west uomo di fede laboratorio barca di uova e laboratorio possiamo andare al laboratorio penso già arrivo penso sia questo quello dove dovete perfetto che culo l'ho messo a caso penso ok vai ok vai sì che bello è l'unico laboratorio anche mi sembra nella giungla però giusto ah comunque non so se da voi è state ma qua sta facendo un sacco di caldo l'uomo che qualcuno guarderà questo video di giusto per dirlo è quella vera o magari abbiamo fanno in australia australian fans ovvero no quando posso passare ovvero australian fans sono dei ventilatori australiani esattamente aumento di livello falce regolare da cazzo c'è una faccia regolare qui la faccia è brutale qua mi da a me è regolare allora livellino che figa che è whatata whatata e la posso anche lanciare whatata whatata mi piace questa faccia più della doppia lama da battaglia ok allora mentre che Alex fa livello vediamo un pochettino che missioni ci servono il cucri sottile io mi sa che ce lo butto non penso che mi serva anche se mi sembra un'arma di quelle speciali che se trovi il il giusto coso ti da ti da un'arma strafiga quindi non lo so allora aiutami c'è il punto dove vendere qui non mi ricordo dove diciamo un po' morti nella rete facciamo morti nella rete seleziona morti nella rete ah joel ciao joel fai morti nella rete allora vendi si si sto vendendo un attimo allora falce ciao doppia lama ciao ciao joel ciao lascianti incendio ma c'è il bolo no scuro universale grande e debole wakazaki due diamanti e quelli non li vendiamo c'è un morsetto oh c'è un morsetto si è un oleandro qua sto qua vende oleandri zio sai cosa significa? e vende anche munizioni eh non ne vende mazza da baseball di ferro mi pare di no minca fammi comprare tutti gli oleandri che posso oleandri minca ne vende anche tante e anche i morsetti magari ci servono i morsetti te li posso fare io sul collo vieni eh che schifo e vende anche munizioni per doppietta ridotte ok 10 munizioni alla volta costano 1000 dollari minca cioè li stiamo salvando e ci fanno pagare stronzi possono essere boh si senza quelli uccidere li prenderei tutto magari invece niente e mi sento di nuovo doppio siiii ok non mi sento di nuovo doppio zio non so che problemi hai no che problemi hai il tuo computer perché se mi sento di nuovo il mio eh no è il mio sono io stesso che mi sento doppio dal tuo microfono dal mio microfono? ehi at molto difficile da cosa invece è molto semplice più semplice di quanto tu creda molto più dai basta scatoletta di carne la doppietta corta pesante abbiamo qua che potenziamo si vai di uno fucile automatico terrificante che minchia 50.000 ah no ok 5.000 che aveva ok buono adesso possiamo usare poco un pochino di più sti cacchio di fucili magari che dici mi compro altre 10 munizioni dal coglione aspetta da Joel vai vediamo un po' dove sono munizioni di doppietta che alla doppietta a me piace un sacco sinceramente si ok buono così ah più di 20 non me ne da perfetto quindi 4 munizioni di doppietta ho sprecato un sacco di soldi vai mangiati una merendina per rimediare ecco una bevanda energetica perché sennò ti va di traverso la merendina ok perché hai quella molto mi sa così sei molto cattivo in questo momento mi sono fatto le molotov aspetta devo curarmi devi curarti il martello di torro fucile shock volendo posso fare andiamo colpo paralizzante che cacchio vuole oleandro vedi scatletta di carne mi sa mi faccio un paio di molotov anche io e me le butta a terra perché cazzo me le butta a terra il molotov se spazio ne ho perché non hai spazio certo che ne ho spazio guarda no le butta a terra semplicemente guarda le sto raccogliendo normalmente non ho capito il senso sinceramente vabbè comunque giochiamo a nascondire dove sarà mai vediamo un po' booo coglio allora vediamo un po' dove cacchio dobbiamo andare allora dobbiamo selezionare la missione zio se non selezionare la missione morti nella notte seleziona però non mi dice niente dove cazzo è aumento di livello cosa ho fatto non ho fatto niente socializzare sfida completata non ho fatto niente mi ha aumentato di livello mi ha fatto una sfida cazzo non so probabile e allora gente visto che sono aumentato di livello direi di mettere questo ora puoi colpire tre nemici con un'arma da lancio vai perfetto ok allora visto che non ci dice dove dobbiamo andare sta missione di merda direi di metterne un'altra giusto vediamo questo una voce dal cielo una volta raggiunta Morrisby e cos'è una voce dal cielo non ci dice neanche questa dove dobbiamo andare si sta rincogliendo il gioco ma a meno che non siano qua da fare non sono qua da fare ecco fatto sangue ai tropici procurati delle bende per Loren vediamo questa prova questa quindi di nuovo da da quel tipo anzi uccidi Vargas fai l'ultimo desiderio l'ultimo desiderio e facciamo l'ultimo desiderio che non c'è qua vabbè andiamo al viaggio a vellaccio l'ultimo desiderio l'ultimo desiderio difficoltà come ha giocato committente carter non ci dice giungla giungla vedi giungla andiamo a giungla a bunker della cascata vediamo un po' andiamo a giungla da basta 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 perché è proprio possibile ci stiamo fissando troppo gente troppo troppo a giocare con lol veramente fissa con lol minchia lux mi sta scoppiando poi che cazzo c'è vabbè il mio preferito è Kimo Temo era Simo eh double kill non è vero minchia guarda sta camminando ancora che se non ha la testa tieni oh comunque le ho pagate un sacco ste cazze munizioni meglio non usarle adesso che cazzo stai colpendo stavi colpendo il nulla tipo boh a me dava che lo colpivo lama doppia lama da battaglia non penso ti interessi no mi tengo a questa adesso eh me dai cosa se non casa eh d'uscita è muddeu d'uscita è muddeu ok allora siamo quasi arrivati al punto dovevamo ammazzare qualcuno non si sa bene chi ancora e sento un sacco di zombie ah e porca puttana che spavento tua mamma pagassa dove ne è uscito comunque mica l'hai distrutto il casco come hai fatto zio gas per accendino ma baccaga è carne anche rilasciato gas per accendino vabbè chi è che si porta in giro il gas per l'accendino me lo deve proprio spiegare senza accendino addosso poi allora dobbiamo andare qua mi dice così eh peccato che non ci sia una macchina sicuramente poco vabbè cento novanta metri che però non diminuiscono per cui ci stiamo allontanando no no dobbiamo passare da qua guarda ciò sta dicendo sì sì come l'ultima volta che c'era una montagna e mezzo no guarda zio pieno di gente pieno di people no cazzo ci sono belle pivelle mi è rimasta attaccata la faccia alla mia arma torna qua eh eh sì non riesco a prenderla aspetta un'altra ah ok buono ripresa ah visto che i lanci generano più rabbia mi converrà a continuare a lanciare la mia arma all'infinito sino a che posso perché se generano più rabbia riesco a utilizzare più in fretta quelle cacchie di abilità speciali quindi continuiamo a correre aspetta fermo stilt zio stilt ma sto un po' stilt stilt control control stilt minchi guardo stilt ho c'ho un martello e devo andare in stilt stilt aspetta questo è un umano ah ma questi sono umani eh sì stilt aspetta un attimo stai stilt tre secondi che stilt cazzo stilt zio continuiamo non c'hanno ancora beccato no 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 zio c'hanno beccato eh messo le ho fatti esplodere le ho fatti esplodere barina che palle quando diventa cod o ci devono anche essere gli umani scusa i banditi eh ovvio aspetta no ma perché vi nascondete dai già è un gioco di merda no eh già mi sta andando tutto a scatti non riuscirò mai a mirarmi come ha fatto a prendermi se non c'ero ho ammazzato qualcuno per sbaglio che ti vinnigo zio qua zio minchia 300 colpi di pistola non sia più facile nella realtà sparare guarda mi sa anche a me perché non è possibile penso che io li prenderei di più se fosse nella realtà che non in sto gioco così morto esci oh schiatto e poi tipo sei ferito perché continui ad affacciarti se stai per muovere eh non lo so eh no fammi prendere ascolta c'è la pompa l'ho comprato per un motivo o per farti quest non l'ho non gli ho fatto niente con una fucinata a pompa in faccia ma non è possibile pistola inquietante zio sopra sopra come fa a colpirmi se son qua dietro ok buona grazie eh devo cambiarmi un attimo arma qua c'è uno rosso non so se si è incazzato o cosa perché abbiamo capito che ecco ok così mi piace di più vai ti prendo i soldi ah vedi zio questi sono furbini aspetta che qua dentro potrebbe esserci qualche progetto per le armi magari no tua madre batta una lurida cos'è successo bacca di merda uno alle spalle mi apre ah quello rosso dovrebbe essere Vargas dovrebbe essere quello che bisogna uccidere ah Vargas aspetta sta puntando a te sta puntando non me neanche cagato ne ha cagato adesso fu ucciso ci sono altri due qua dovrebbero essercene non si vedono oh protea forse sono sopra o son dentro secondo me son dentro zio vieni qua sfondiamo dove sei? un attimo sto cercando una bevanda energetica vieni che sfondiamo finchia che uomo che sei spesso sfondo io no vai vai no sfondo io boh uuuuh finchia che uomo niente attenzione zio pronto questa me la prende tango down go 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 tango down charlie secured charlie secured charlie secured charlie secured good job guys proprio hai risaputo che durante le mission charlie secured prenditi sto fucile automatico ingannevole naturalmente vabbè qua dietro incantevole minca è illuminatissima sta stanza non vedo niente oh crezio chiave pesante guarda oh chiave pesante chiave inglese pesante e qua c'è una carta di identità eh guarda addosso il tipo ha dei cucri cucri cosa sono i cucri caputana questa è figa la voglio mia eccezionalmente vera no eccezionale veramente mi ha dato l'achievement e ma sti cucri che sicuramente sono molto meglio di sti schifi infatti infatti ce li butto aspetta un attimo scarta ok questi cucri li mettiamo qua perché sono molto forti ok allora fammi saltare qua controlliamo ovviamente come al solito il posto perché magari ci può essere qualcosa che ci serve non c'è un cazzo perfetto possiamo uscire già finito così fucile a singolo colpo non mi piace sorry se lo vuoi tu prendo qua cosa c'è alcol tubo flessibile vuoto perfetto ah lì c'è un'altra cosa da aprire però ce la porto in mezzo al cazzo una lama ho trovato possiamo andare? direi di sì eccetto eh munizioni lì te ne servono ce ne sono un sacco qua a terra ma dovrei essere fuori lo sai vorrei dire aspetta un po' fammi salire voglio vedere cosa c'è qua sopra oltre a gente morta che abbiamo ucciso noi ah ecco qua appunto vedi c'è una cassa con cucri terrificanti sono fissati questi cucri saranno tipici della zona zio che brutto come stavi salendo allora vediamo un po' nuova missione vediamo un attimo cosa dobbiamo fare? l'ultimo desiderio è fatta morti nel re uccisi tutti i morti vicino al porto qua è da fare sembra di sì ok come si chiama? eh morti nella notte nella rete nella rete morta quanto manca? minchia è lontanissimo 400 metri che cazzo stai dicendo? c'è il viaggio rapido mi pare sì c'è il viaggio rapido vicino viaggio veloce che cacchio è sta roba però? viaggio veloce dove? ne facciamo un'altra allora procurati delle bende per Loren altri 400 metri sono tutti a fanculo queste missioni diciamo che siamo noi a fanculo eh mi sa anche a me scienza demoniaca non è da fare qua oggi è notambulo scopri dove si trova l'aereo 500 metri sì vabbè allora andiamo cominciamo ad andare se troviamo uno di viaggio rapido se non erro ce n'era uno qua vicino ce lo facciamo o no eh tocca trovare uno di quelli perchè siamo sperduti nella foresta esattamente Vargas di merda oh guarda cosa c'è qua dietro ci siamo persi più fucile a raffica ghiacciante livello 35 però questo è fucile automatico terrificante minchè molto più forte non mi interessa però tutti i fucili per quanto li usiamo li usiamo solo contro i gli umani perchè sono gli unici che ci ridanno munizioni gratis quindi quindi guarda oh dobbiamo passare da qua dici scusami eh ma qua vicino nella mappa m per favore ah ok vedi qua vicino c'è il viaggio rapido vieni 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 continuiamo qua da questa direzione sì sì ho trovato sulla mappa perchè io sono colui che scova sulla mappa i viaggi rapidi minchia che mestiere utile minchia scherzi questa mappa ok ci siamo vicini vai 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 we can do this bro we can do this dio c'è l'ombra ah minchia ragazze ragazze è basca minchia c'è un caldo minchia no io sono ancora sotto il sole perchè sei grasso levati ok vai buono minchia pelo pelo mi hai fatto pelo pelo mi hai fatto restare lì questa cosa la cascata bellini stiflo la cascata ma siamo le cascate del niagara le cascate di barracamana siamo le conosco vai qua non è qua il viaggio rapido qua c'è una capanna stronza mi dice che è là dietro il viaggio rapido è qua su zio il viaggio rapido qua su mezzo alla foresta me lo dice qua che vuoi che ti dica stiamo tornando mezzo indietro però non posso salire eh levati testone c'è una testa gigante tipo che mi stava toccando ma aspetta no non dirmi che è sopra la montagna è una cazzata mi sa no c'è il modo per arrivarci l'ho l'ho visto sulla mappa c'è il modo dai grande così no è risceso ma sei una puliga se sali non sale tiè parkour style ma da vaga ce l'ho fatta ok ah c'era la stradina qua da questa vabbè eh perché non riesce a salire qua ci sono anche le scalette lì zio sono allergico alla foresta ce lo stai facendo salire più o meno no dai brutto pirla guarda dove non riesce a salire che sei tipo mezzo mezzo sottoterra guarda cosa ho trovato qua scaletta vediamo un po' oggi è esplorazione time proprio minchia adventure time vai eccoci qua cosa c'è qua casse da poter è un cacchio di cose sta a terra tre secondi vediamo un po' dove siamo finiti mi sa che a farce no siamo andati da tutta altra parte che posto è non l'idea è un posto anche abbastanza è un posto enorme tipo molto bellino qua ci sono dei teschi ci siamo allontanando ci siamo allontanando però eh lo so aspetta però a sto punto posto è villaggio nella giunta c'è molta gente arrivederci andiamo c'è via allora dobbiamo tenerci sulla destra adesso per poter andare verso quel punto così dice la mappa quindi vedete che mi rifaccio adesso dobbiamo tenerci sulla destra guarda verso l'alto guarda guarda quello si è fermato stacco non ce la posso fare fermatevi vi voglio mangiare eccoci qua aspetta dove siamo arrivati prima sbaglio un buon si guarda feceo veloce è giusto è giusto dove dobbiamo andare però ah boh eh villaggio sul fiume villaggio sul fiume proviamo va minchia ha fatto un colpo forti oh guarda 206 metri siamo vicini a me dice 50 zero e quale missione hai ancora io ho morti nella rete io ho notamburo ok morti nella rete la facciamo vai a fare morti nella rete vai facciamo questa missione e poi chiudiamo anche allora vediamo minchia non cadere da lì tututu 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 quanto sarebbe figo the diamond con le musiche di del signore degli anelli farebbe schifo lo stesso mi sono accorto vabbè schifo ugualmente tututu 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 non so perché ti sto seguendo nella merda proprio cioè stai facendo giri del cazzo oh cos'è questo un oleandro no ma non può venirle tipo una febbre brutta moriamo tutti ah c'è un tipo enorme dove ah non dirmi che sono di nuovo umane tipo enorme un petto 3-2-1 è qua dentro penso sia da fare platforming qui l'ho fatto e vai cazzo platforming se sono arrivato allora lancia una molotov lì dentro pronto aspetta io l'apro e tu levati però sì 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 mi levo mi levo ho fatto mica una casa in fiamme guarda vabbè mettere il mio fucile forse simulativo tua madre è bagassa guarda come escono li finisco col fucile vai ma col martello eh quello è uno di quelli potenti oh un assassino sai che fa staccare un pezzo di scala e usarlo come se di legno figo zio ti piace i fucili per caso ti piacciono ti piacciono ti piacciono oh ricristo devo ricaricare non posso tu ti parla una pia una faccia intanto che lentissimo ricaricando le armi ucciso minchia sono andate proprio a merda così mentre stanno facendo il coso mi stavo anche per colpire ok vediamo un po' cosa c'è in sta casa 82 di Pinaros e vabbè solitamente non se ne vedono tipo morte umane però strano una carta d'identità lì ci siamo quasi cosa non ti sembra strano che sia morta umana? eh forse si no aspetta guardala in faccia non è umana ha gli occhi rossi guarda però non è non è malmessa come gli altri giorni malmessa no adesso si senza una faccia madame si sono brutale sono che schifo doppia lama da battaglia non mi piace eh direi che abbiamo finito qua no andiamo a consegnare la quest cosa si pare qua c'è il coso doppia lama doppia faccia ho fatto un achievement prendendo il teserion che si chiama ci siamo quasi non ho capito se ho quasi merda sono cadute le le robe tu stai scherzando dobbiamo usare gli assi di legno no aspetta vieni qua vieni qua vieni qua porca troia texture di merda ah ok ne usciamo da qua no stai scherzando ok ragazzi finiamo qui aspetta olle vaffanculo ce l'ho quasi fatta ascolta qua vi ho detto ci sono assi di legno ah ok ma sono da usare come armi non dirmi che dobbiamo farcelo sui piolini lì perché zio dobbiamo riuscire a passare qua ma stai scherzando guarda così no 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 ok aspetta io non finisco la puntata sino che non ce la facciamo no zio cioè stai scherzando io ci scelero dietro aspetta un po no no ho già visto non c'è niente che palle ma sai che ho notato una cosa che cosa guarda cosa sei caduto beh all'indietro va molto più in avanti capito minchè è vero quindi tipo ora ora faccio una cosa ah ce la possiamo fare aspettate un attimo allora fermo 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 vai prima tu porca puttana ma va culo minchè che stronzi però che sono stati già scatta a sto gioco del cazzo i comandi sono impossibili ci metti anche questa roba non ce l'ho fatta ah ma possiamo passare da qua ma vaffanculo cocco datevi bastardi luridi pezzi di merda madonna ok vai e io no ce la dobbiamo fare tutta così sì mai sarebbe finta fra mezz'ora appunto anno 8 come minimo fra mezz'ora eh qui cosa c'è dove si consegna ah questa è fra venti metri quindi qua davanti vediamo anche cosa ci dà che sono curioso no è dentro la casa ovviamente non è dentro dove cazzo è sto tizio ah ok si niente eh batteria grande munizioni doppiata mi servono di nuovo denaro minchè ne hai proprio da buttare 3500 dollari minchè molto dammi a me buono così allora vediamo un po' questo ci fa fare affari c'è mazza coltello falcetto kit medico grande che penso di non avere non lo so martello da costruzione qua ci servono un sacco di cose mazza da baseball di metallo trovata sì buono così gente direi che al prossimo episodio faremo la mazza anzi Alex nel mentre che noi non ci saremo qua ma ci saremo in realtà faremo faremo il tutto prenderemo un po' di munizioni un po' di roba eccetera ci si vede quindi al prossimo episodio di Dead Island ricordatevi di mettere un mi piace di condividere il video di scrivere un commentino qua sotto per dirci cosa ne pensate la serie o per scrivere semplicemente Dead Island anche se vi stiamo sul culo esatto scrivetecelo lo stesso e ci si vede apprezzato di nuovo su un episodio di Dead Island scritto ovviamente Minecraft esatto